L'antico borgo di Roccavivi fu distrutto dalla frana causata da una forte pioggia dell'8 febbraio 1616. Alcuni documenti permettono di stabilire la data della sciagura e di conoscere alcuni dettagli della tragedia. Nel brogliardo giovannelli, conservato presso l'archivio della Curia Vescovile di Sora, una bolla di nomina è riferita al nuovo parroco di Roccavivi, Don Donato Canna, nominato il 6 agosto 1616, al posto di Don Camillo di Fede, deceduto proprio a causa della frana. Altre notizie le fornisce nel 1763 l'abbate Don Ermenegildo de Paulis, che in una relazione in vista della visita pastorale definisce i fatti della valanga vera e costante tradizione, aggiungendo altre note che si riferivano ad un oscuro presagio della catastrofe. In particolare la narrazione di una lite di confini sorta in quell'anno tra Roccavivi e Balsorano. Per poter giungere alla conoscenza della verità e dirimere la questione, il vescovo Girolamo Giovannelli aveva lanciato la scomunica contro tutti coloro che erano a conoscenza dei veri confini e si rifiutavano di dichiararli. La mattina del 7 febbraio, vigilia della distruzione del paese, mentre l'abbate celebrava la messa, un orribile maiale entrò in chiesa e alla presenza dei fedeli prima lascerò il paliotto dell'altare, poi strinse con i denti la fune della campana e cominciò a farla suonare, quindi si dileguò lasciando la gente inorridita. Ma anche un altro evento prospettò la prossima sciagura. Infatti un vecchio del luogo, Tommaso Liberatore, era stato avvertito in sogno dell'imminente rovina del paese, ma nessuno aveva prestato fede alle sue parole, come al solito. Egli però, per salvarsi dal disastro, si era rifugiato con i familiari in un altro luogo. Nella notte seguente si scatenò un uragano, con tuoni, pioggia e neve, e il paese restò sepolto da una valanga d'acqua, mista a fango, precipitata dal monte. Cadde anche la chiesa, di cui rimase in piedi solo la parete alla quale era addossato l'altare che custodiva l'eucaristia. Molte persone avevano trovato rifugio nella chiesa, ma dalle rovine furono estratti 80 cadaveri. In un angolo, protetta dalle travi, fu trovata viva solo una donna, di nome Altesia, che aveva affermato di essere rimasta in colume perché aveva invocato San Carlo Borromeo, patrono del vecchio paese. L'abbate Don Camillo di Fede fu trovato morto anche egli sotto le macerie della sua casa, col breviario in mano. L'abbate Don Ermene Gildo de Paulis concluse la narrazione ricordando che ogni anno, il 7 febbraio, veniva celebrato un anniversario in suffraggio delle vittime dell'immane catastrofe e ammoniva i fedeli ad aver paura della scomunica. Dell'antico abitato di Rocca Vecchia rimase in piedi soltanto una parte dell'antico santuario della Madonna delle Grazie, dedicato in origine anche a San Silvestro.